De Luca Show da Fazio. Ieri sera, pochi minuti prima della conferenza stampa in cui il Premier Conte ha annunciato e spiegato il nuovo DPCM, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato ospite a Che Tempo Che Fa, storico programma di R3 condotto da Fabio Fazio. Il Governatore è esordito fornendo qualche anticipazione sul decreto in uscita. Prima della firma, infatti, il Governo aveva incontrato i Presidenti delle Regioni per informarli sulle nuove disposizioni. De Luca non sembra aver apprezzato le misure adottate. Come al solito, una via di mezzo, commenta, disposizioni poco chiare. C'è qualche punto interessante, ma alcune scelte sono incomprensibili. L'anticipazione che è arrivata a noi ha delle cose interessanti, almeno dal punto di vista di una nuova consapevolezza della gravità del problema, ma presenta anche per un'occhiata che ho dato a questo testo, non so se sarà quello definitivo, anche elementi di grande ambiguità, come sempre, e di cose a metà. Tuttavia, il Governatore non ha potuto approfondire i punti del DPCM prima della conferenza stampa ufficiale di Conte. Si è limitato quindi a ribadire le criticità della campania, come la densità abitativa e la mancanza di personale sanitario, ed a rimarcare lo sforzo e il lavoro che sta facendo per salvare la popolazione dal virus. Il discorso ha preso poi una piega più leggera quando Fazio ha ricordato la discussa diretta ai venerdì, in cui De Luca aveva definito Halloween un'inutile e stupida americanata. Parole forti che hanno sollevato numerose polemiche. Il Governatore, invece di giustificarsi, ha rincarato la dose. Non penso che avremo qualche incidente diplomatico per questa imbecilità che è Halloween. È una cosa idiota che serve solo a incrementare i consumi inutili nel nostro paese come in America, quindi non c'è nessun problema. Scatenato anche su Juve Napoli, commentando la sentenza che ha decretato la vittoria a tavolino dei bianconeri. Hanno creato una situazione di tale confusione per cui un'intesa fra privati, il protocollo che riguarda la Federcalcio, dovrebbe addirittura essere prevalente sulle disposizioni sanitarie del Ministero della Salute. Ma queste sono cose non da paese serio, ma da circo equestre. In ogni caso, al di là di tutte le stupidaggini che si sono dette, l'ASL ha fatto nient'altro che il proprio dovere, cioè ha riservato ai giocatori del Napoli lo stesso trattamento che viene riservato a ogni cittadino in Campania. Poi, per quanto riguarda la sentenza, è una sentenza limpida come una scodella di bagna cauda. In conclusione, De Luca ha poi voluto ricordare la sua prima intervista con Fazio a fine lockdown in cui aveva definito il conduttore un fratacchione. Mi raccomando, fate tutti i tamponi alla pazzia.